Buongiorno, ho letto il regolamento dei mille disgrazi, il regolamento per me è fondamentale, il regolamento non si può contraddire. Ho notato che sono terminate le iscrizioni, sono terminate e le riapriremo. Mi scuso per il ritardo, scusatissimo. Sono ancora in tempo per fare la domanda, la mia mail materiecolore chiocciolahotmail.com, grazie. Io rispondo, informo io gli organizzatori, grazie. Se sono in tempo ho fatto l'iscrizione, glielo dico. Ok, grazie. Siete inviato una mail a nome di Lidia Capezzuoli per la stessa richiesta. Salve, niente vero? Sono in ritardo. Adesso le informo. Grazie, aspetto. Salve, hanno risposto sulla posta di Lidia Capezzuoli che è stato propagato fino al 10 di novembre, perciò sono in tempo. Domani posso fare l'iscrizione? Beh, certamente chiami il 340-077-9137 e quindi lei potrà essere iscritto. La signora è molto elegante e educata. Buonasera, ho inviato questa mattina email e immagine con WeTransfer. Ah bello, interessante. Bene. No, è brava. Può inviare anche quest'altro, sì, una ragazza con un palloncino. E l'altro invece è un gruppo di persone che stanno con le mani sulla faccia. Sì. Va bene, è questo. Bene. Bene, quindi partecipate ai mille di sgarbi che poi diventeranno forse 1500. Ecco. Avete tempo fino al 20 novembre, qui è scritto 10 ma prognogliamo ancora fino al 20 novembre. Chiamate il numero che vi ho detto 340-077-9137 e buona fortuna. Vi aspetto a Castiglione Fiorentino il... chi lo sa quando? No, come cosa sai? Il 12 dicembre inauguriamo? Il 12 dicembre? No, noi inauguriamo il 12 dicembre, No, fino al 3. E' proibito. Ma poi prorogheranno, no? Ma cosa dici? Assolutamente no. Ma no, 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 dopo c'è Natale. Non possiamo dirlo. No, va bene. Cerchiamo di inaugurare il 12 dicembre. Va bene. Forse. No, forse, sicuro. Insomma venite quando cazzo volete. Ok. Grazie.